Come creare un blog efficace in tre mosse. Definisci il tuo pubblico e i tuoi obiettivi. Il primo passo per creare un blog è proprio questo, di capire a chi ti rivolgi. Crea contenuti di qualità. Una volta definito il tuo pubblico, di riferimento, è importante creare contenuti di qualità. Il contenuto del tuo blog dovrebbe essere informativo, utile, coinvolgente per i tuoi lettori. Assicurati di mantenere un tono di voce coerente e di utilizzare immagini e grafica di alta qualità. Poi il tuo blog va promosso. Creare un blog efficace è importante ma promuoverlo è ancora più importante. Quindi utilizza i canali social per promuovere i tuoi post e per interagire con il tuo pubblico.